La showgirl argentina Belen Rodriguez sta attraversando un momento difficile secondo le ultime indiscrezioni uscite sul settimanale Diva e Donna. La modella, che aveva appena ritrovato un po' di serenità tra le braccia dell'imprenditore Angelo Galvano, ha fatto una confessione amara sulla sua situazione sentimentale in una nuova intervista. Belen Rodriguez, i nuovi progetti di carriera. Dopo una lunga pausa, Belen Rodriguez è pronta a tornare in televisione sui canali 9 e Real Time. Nella prossima stagione televisiva, infatti, la conduttrice sarà al timone di Ben 2 Show. Su Discovery prenderà il posto di Elettra Lamborghini ad Only Fan Comico Show, mentre su Real Time sarà la padrona di casa ad Amore alla prova la crisi del settimo anno. Due progetti interessanti e per i quali la showgirl si è mostrata molto entusiasta. Eppure una nuova ombra sembra essere in agguato a minare la serenità di Belen. Già finita tra con Angelo Galvano, l'indiscrezione, mentre la carriera di Belen Rodriguez sembra aver preso una svolta positiva, lo stesso non si può dire della sua sfera sentimentale. Secondo il magazine di Gossip Diva e Donna, infatti, la relazione tra la conduttrice e la sua nuova fiamma, Angelo Galvano, sarebbe già giunta al termine. Ecco cosa si legge sul magazine, Belen Rodriguez si sta godendo qualche giorno di vacanza ad Albarella, sul delta del Po, accanto a lei, però, non c'è il compagno Angelo, con cui sarebbe già finita dopo pochi mesi di frequentazione. A supportare questo epilogo, c'è anche una confessione, molto intima e dolorosa, della stessa Belen. La confessione di Belen Rodriguez. Ho paura di non avere più un matrimonio stabile, di non avere più le stesse energie di una volta, di invecchiare da sola, di perdere i miei cari, ha spiegato Belen Rodriguez in un'intervista riportata da Diva e Donna. Sono paure che abbiamo tutti e ne parliamo poco, sarebbe meglio farlo, ha concluso poi dando voce alle proprie insicurezze. Nell'articolo pubblicato nella rivista Diva e Donna, si fa poi riferimento alla nuova versione più matura e profonda che Belen vorrebbe far trasparire in questa nuova fase di vita. Belen nei suoi nuovi programmi vorrebbe far emergere un'altra parte di sé, via la, bellona seducente, che ha fatto il suo tempo e che ha fatto impazzire tutti, spazio alla donna che ha sofferto, che è stata tradita e anche usata, ma che alla fine ha fatto i conti con se stessa.